Si chiama Spiagge e Fondali Puliti, l'iniziativa di Lega Ambiente Abruzzo con i ragazzi delle scuole della nostra regione per pulire le spiagge, come vediamo alle nostre spalle, anche i fondali marini, questa bella iniziativa, Presidente, con il comprensivo 8 di Pescara, in questo caso siamo nella spiaggia antistante La Madonnina. Sì, è un ritorno in natura, finalmente dopo questa crisi legata alla pandemia, finalmente i ragazzi possono tornare all'aperto, le facciamo in questa occasione particolare che è appunto Spiagge e Fondali Puliti, una nostra campagna storica che accende riflettori sulla qualità e la tutela delle nostre spiagge, in modo particolare attenzionando i rifiuti che noi monitoriamo attraverso due studi, il Marine Litter e il BC Litter. Questo per dire che comunque è ancora tanta la presenza dei rifiuti in spiaggia, dobbiamo fare attenzione soprattutto alla plastica, siamo stati condizionati anche dalla presenza ovviamente di rifiuti nuovi come le mascherine legate a questa pandemia, ma è anche un momento per fare attività di educazione ambientale con i più piccoli, non a caso oggi siamo proprio con gli elementari, proprio per educarli a un corretto stile di vita e anche a una corretta gestione dei rifiuti. Ovviamente tutto questo va visto anche all'insegna di una infrastrutturazione che ci permette a livello regionale di meglio gestire i rifiuti e al tempo stesso di garantire i corretti stili di vita e attenzione a questi particolari prodotti. Come stanno rispondendo questi ragazzi a questa iniziativa? C'è un entusiasmo forte anche perché si sente con l'arrivo dell'estate anche la ripartenza, l'uscita da questa situazione di crisi legata alla pandemia, quindi oltre alla volontà di partecipare alla nostra attività di educazione ambientale c'è proprio la voglia di riapproparsi dello spazio aperto e degli spazi naturalisti. A questa iniziativa di Marco non partecipano solo le scuole ma anche istituzioni e aziende? Sì, ovviamente l'iniziativa ci vede in collaborazione col Comune di Pescara ma anche con aziende private che trovano forza nel volontariato aziendale proprio per dare un contributo al mantenimento della qualità delle nostre spiagge. Proprio questa mattina c'è un'azienda che sta collaborando con noi nella raccolta dei rifiuti. Proprio questa mattina c'è un'azienda che sta collaborando con noi nella raccolta dei rifiuti.